Il sindaco di Garlate ha ragione, a sostenere la posizione di Beppe Conti, che aveva denunciato il tentativo poi smentito dalla Prefettura, di nascondere l'arrivo di richiedenti asilo nel suo comune, non la Lega o un partito di centrodestra, bensì rifondazione comunista. In questi due anni la politica lecchese ha svolto un ruolo di spettatrice di fronte alle scelte di dislocazione degli insediamenti ordinati dalla Prefettura senza nessuna razionalità se non quella di trovare dei buchi dove realizzare gli hub, scrive la Federazione Lecchese di Rifondazione. Due anni persi, dove le uniche istituzioni che hanno avuto vantaggi sono state cooperative e apparse dal nulla. La modalità autoritaria con la quale il governo e la Prefettura hanno imposto ai comuni di accettare gli insediamenti ha creato una zona grigia di non-dialogo, continua il partito. I sindaci si sono visti apparire dal giorno alla notte decine di profughi dislocati improvvisamente nel proprio comune. Non solo primi cittadini leghisti hanno provato profonda irritazione per questa modalità, ma, è notizia di questi giorni, anche sindaci progressisti non hanno potuto nascondere il proprio sdegno per questa imposizione che li tiene all'oscuro delle modalità degli insediamenti. È il caso del sindaco di Malgrate, Flavio Polano, che protesta perché nella ex ditta Moroni è previsto un hub senza nessuna consultazione con il primo cittadino. È il caso del sindaco di Garlate, Giuseppe Conti, che per caso vede dei lavori in corso non autorizzati dagli uffici comunali presso uno stabile dove la Prefettura avrebbe rilasciato il nulla osta per i lavori. Denunciamo con forza questa disorganizzazione, voluta da istituzioni che giocano all'emergenza, che oggi non ha nessuna ragione per essere gestita con autoritarismi degni di altre epoche, attacca rifondazione. Siamo solidali con le proteste del sindaco Flavio Polano di Malgrate e con il sindaco Giuseppe Conti di Garlate e chiediamo alle istituzioni un vero tavolo di confronto dove non si parli solo di emergenze e di dislocazioni imposte dall'alto senza nessun raccordo con il territorio. Chiediamo inoltre con forza, conclude il partito, che questo tavolo permanente veda presenti tutti quegli enti che devono fare progetti di integrazione nel futuro, oltre alla semplice accoglienza, che si parli di lavoro, non solo gratuito, abitazioni e vita sociale per tutti, italiani e migranti, di vita degna per qualsiasi essere umano.